Un post su Facebook, pubblicato qualche giorno fa dal sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha scatenato una lunga serie di commenti e polemiche che non tendono a placarsi. Più passa il tempo e più cresce in me la sensazione della presenza di un potere tentacolare che blocca, rallenta, disinforma, delegittima, una specie di piovra che attiva la macchina del fango che isola e distrugge. Parole durissime quelle del sindaco che naturalmente hanno lasciato il segno, anche perché De Benedittis rincara la dose ricordandosi dei nomi, dei volti, delle parole dei sindaci che quei tentacoli, sempre gli stessi, hanno stritolato, impedito di governare, fatto fuori. Uno scenario inquietante, quello descritto dal sindaco, che ha ricevuto la solidarietà di moltissimi cittadini, soprattutto della sua parte politica, ma anche pesanti critiche della serie, ora se ne accorge. Soprattutto le opposizioni accusano De Benedittis di aver promesso in campagna elettorale la rivoluzione, salvo poi rendersi conto, dopo pochi mesi di governo, che tra il dire e il fare accorato c'è di mezzo più che il mare e l'oceano. Molti lo accusano di resa, altri di scarsa capacità come Direzione Italia, lista di opposizione che in una nota scrive che a parole tutti si proclamano grandi amministratori. Poi una volta al governo devono fare i conti con la propria competenza e quando ci si rende conto delle proprie deficienze, tra il dichiarare di non essere all'altezza e gridare al complotto, meglio quest'ultima via e parlare di poteri tentacolari e di poteri occulti, dimenticando che il potere lo detiene, chi ha in mano le leve del comando. Tra i molti interventi di cittadini, opinionisti, giornalisti ed esponenti politici, non è forse un caso che quello di Direzione Italia sia il più duro. In molti vedono proprio in tale partito e nel suo principale riferimento politico il senatore Gino Perrone i destinatari dell'attacco del sindaco. Ma siamo nel campo delle supposizioni, chiarisca De Benedittis a chi si rivolge, perché su una cosa sono tutti d'accordo, sia chi è pro, sia chi è contro di lui. Le parole che egli ha scritto non possono restare in sospeso, è assolutamente necessario che De Benedittis dica a chi si rivolge, da chi è rappresentata la piovra, chi attiva la macchina del fango e a chi appartengono i tentacoli che stritolano e impediscono di governare. Oltretutto termini come piovra e tentacoli evocano addirittura fenomeni criminali che male si associano sia al contesto sociale che a quello politico di Corato. Che De Benedittis, che sin ad ora ha avuto un dialogo costante con i cittadini, chiarisca, faccia i nomi, indichi circostanze e se necessario si rivolga alla magistratura, perché per ciò che ha scritto ci sembra che il dado sia più che tratto.